Ciao ragazzi sono Falcorio Ero e oggi sono qua con un nuovo video del nostro Monza Ormai prossimo all'arrivo, al debutto in serie B E oggi non abbiamo fatto la live perché ci sono le partite Quindi la probabilissima live è rimandata a martedì E probabilmente visto che insomma so che parecchi di quelli che seguono questa serie Sono un po' incasinate durante il pomeriggio Potrebbe arrivare verso le 6, le 6 e mezza Sempre qua su Youtube Comunque in base a quello che mi direte anche voi come preferenza Cercherò di organizzarmi di conseguenza Se no la rimandiamo a sabato prossimo Insomma ditemi voi quello che preferite E vediamo un po' Fermo restando che oggi abbiamo un episodio abbastanza particolare Perché abbiamo la Supercoppa di serie C Che non so se ci porterà soldi o meno E comunque diversi... Manca un mese abbondante all'apertura del mercato Perché in questo episodio faremo credo gran parte di quella che sarà la preparazione In vista del mercato Con una brutta notizia subito Nico ha accettato l'offerta del Barcellona Per cui è saltato il trasferimento al Monza E adesso la clausola di 775 milioni? No Può essere Eh sì Non può essere Scusate un attimo No è rimasto un milione e quattro La clausola Perché è rimasto un milione e quattro? Proponi termini Scusate Allora ho capito male le clausole Io ci riprovo Dunque Mortimer Pure lui ha affidato il futuro alla società Firmandoci tua E quindi pure questo mi sa tanto che non si potrà fa' Ma sono 750 mila Sono 750 mila Eh Scusate Fai offerta Ma allora scusate Pure quell'altro Cioè Di cosa stiamo parlando? Ho letto male Ho letto Sono incoglionito Perché è prima mattina Sono 775 mila Ma di che stavo a parlare? Fermi Ritiro offerta Ma che stai a scherzare? Ma che te sono a strapagare la gente? Amatto Ho annullato l'offerta Sì annullala 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 Un attimo Ah ecco Non ha interesse Vabbè Ciao Bello Nico E riproviamo con te? Ma che mi è venuto un milo 770 mila Vabbè Bene Ok Non sono completamente Però lui non ha intenzione Vabbè Oh e allora fa come te pare Adesso a far panchinaro A portargli A portargli i cappuccini E le borracce Auguri Per la tua brillante vita calcistica Dunque Qui niente Ok Io starei anche assumendo gente Ma non arrivano quelli che vorrei prendere io No Beh però questo per l'under 18 Ah no Questo sarebbe per me No 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 Ma che fa scherzare Io con l'ho importato Fa di tutto per non andare via Puato 8 settimane di stop Mi sa che abbiamo preso una sola Con il puato Ma una di quelle sole Che proprio Ci ricorderemo Ci ricorderemo A distanza di anni Parlando di football manager Allora Portanova è dubbioso E costa 8 milioni Per cui sono ancora più dubbioso io Eeeh Tonin Tonin sta bene Dov'è? Tonin Ciao Tonin Poi chi è? Barnabà Mamma mia Direi Direi di no Di gioia Ciao carissimo Bellucci Soriano Mariano Gabriele Io l'avevo preso come responsabile Il senatore giovanile Ma Comunque raga C'è veramente un problema Un problema di fondo Perché io Io faccio così No Io faccio così No Niente Se io seleziono Quello che Voi non sapete quante volte Mi è successo Di selezionare qualcuno Per un determinato ruolo E di trovarmi con L'impossibilità Di assumerlo Perché Me lo assegna Un altro ruolo Io Non Penso sia un bug Di questa versione Che ho Vorrei sapere se capita Anche a voi Perché a me capita Su 8 Su 10 tentativi 8 volte Ecco pure questo No Questo dovrebbe essere Il preparatore Di recuperi infortunati Per la primavera Era stato scelto Per l'under 18 E invece Me lo sto trovando In prima squadra Ma perché No vabbè ragazzi Cioè Non A parte che Scusate Capo Preparatori Infortunati E lui 18 Luis Luis Liotta Ma chi è Luis Liotta Non ce l'ho Luis Liotta Gianluca Marco Pablo Antonio No Allora Allora Stavolta L'ha preso Luis Liotta Oh Sì A Luis Ciao Finalmente L'ha preso Eeeh Conferma Bene Lui Va bene Matt God Come osservatore Osservatore Ecco Che mi sembra Anche Piuttosto Valido Bene Mosti Che stai a fa' Floris Bravo Bravo Floris Adesso che si è sbloccato Dunque Mandano un corso di lingua E chiedi consigliare L'acquisto Matt God Mandano un corso di lingua E chiedi consigliare L'acquisto Machado Oh Match Analyst Anche lui Della Non mi ricordo se questo l'avevo preso per la prima squadra o per la prima vera Comunque ho fatto un po' di acquisti vari Nel tentativo di migliorare un po' la situazione Petrica Oh Allora Il terzino della Lazio Che non mi sembra sto gran campione Però Noi adesso abbiamo Andando un'occhiata rapida Difensore abbiamo firmato con Egger Centrale che verrà mandato in prestito Tipo prima di subito Mazzate che pippa A Cardi no A Cardi ci interessa Ehm Terzino destro Discreto Poi sta arrivando Carillo No è italiano Quindi Carillo Carillo Gli ho provato da subito Un tono un po' E lui sarà un ottimo Un ottimo rincalzo E poi Mateson No allora non ci serve Petrica Ci servirebbe un terzino sinistro Più che destro Comunque non è che abbiamo comprato Proprio i campioni assoluti No Petrica stai bene dove stai Ehm Non penso che sia Continuo a osservare Che magari Duncan Bobby Duncan No Bobby Duncan Non mi sembra Derrico La mazza Per cortesia Mamma mia Comunque La mazza di Derrico Ormai sta diventando leggenda Sida Che devi fare Noi Stavamo già Già lodato Vorrei sapere i metodi Di Derrico Ma Forse è meglio Non saperli Per non essere Poi Ehm Chiamabili in tribunale Ecco Ehm San Marino è infortunato Ancora E' il terzo Oggi Non dobbiamo iniziare Terzo in dieci Dieci minuti Neanche No neanche Che piacere Io vorrei Arrivare al giorno Di apertura del mercato Così da prepararci A quello che poi sarà Una live Un episodio Dedicato interamente Al mercato In cui Vendere 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 Perché abbiamo Il discreto bisogno Di Di fare cose Se adesso Io spero che Questa supercoppa Porti un minimo Di prestigio E di soldi Più soldi Che prestigio Onestamente Allora Brambilla No vabbè Non sono giocatori Particolarmente Interessanti Quelli che mi propongono Questo Determinazione 18 Marcatura 7 Passaggi 8 Non mi sembri Vapio sto Dribbling 5 Di che stiamo a parlare Continuo a osservare Martinez Difensore centrale Cos'è Non sembra male Che clausura C'hai 2003 Non c'è Verrà Mai Non c'è Verrà Mai Continuo a osservare Juwara Non mi sembra Costa troppo Gail Alonso Non mi piace Bernie Rodriguez Questo Lo continuerei a Osservare Turientes Che contratto C'ha Turientes Non si sa E vai a visionare Su Che sta Aspettare Goebbels Questo Costerà Tant'errimo No In realtà No Visiona Ghezzi Allora Io vorrei investire Due soldi Due Su qualcuno Di valore Assoluto Tanganga Oh il vecchio Tanganga Che sembrava Uno incapace Capace Di marcare Ma A quanto pare Mi sbagliavo Tanganga Ricordo che Ai tempi Del Totram Non era Malaccio Ma sto Marcatura 9 È spettrale Per un Centrale Minelli Minelli Grande Elevazione Ed è in Scadenza A Minelli Quasi Quasi Perché Non hai Vabbè Continuo Osservare Segre Sì Però Non sono Giocatori Addirittura 86 Oh Se dite Che sto Segre Potrebbe Essere Intrigante Noi lo Andiamo A contattare Titolare Fissimo Elemento Della Rosa Ecco Non ci Allarghiamo Negozi Da contatto 3 anni 5 anni Di contratto A 1 20 Proponi Così Secco Se Gli Osservatori Hanno Ragione Poi Burrows Non ci Interessa A 0 A 0 I colpi I colpi Alla lotito Ci servono A noi Bonfanti Dribbing 13 Ma non mi sembra Malaccio Il vecchio Nicolas Qua Nernandez Vabbè Ma questo Questo Non uscerà Mai Da noi Stella E vabbè Fio mio E io Te posso Da 400 Visto che Si parla Di un Insomma La Percettura La scordi Per tutta La vita Aumento Di stipendio Senza Claus La proponi Dai Fai il bravo Su Ti aumento I bonus Allora Questo Potrebbe Essere Uno Buono Vero Perché Insomma 25 Anni Buone Statistiche Un po' Ovunque Grande Integrità Fisica Buona Velocità Oh Volesse Il cielo Provete No Abbiamo Già I portieri Paganini Lezzerini Orelli Visionalo Marson No Il portiere Ce l'ho Juan Manuel Valencia Eh Però Juan Manuel Valencia O Sapete Che Forse È Più Forte Questo Di Quell' Altro No Ricordi Rapporto Paul Tristan No Il portiere Sto bene Sto bene Me lo tengo Giusto così Allora È Stato aumentando Perciò Sui ricavi De recensione Ora è Del 30% Vabbè Insomma Sempre Un pochino Meglio Non è Proprio Il massimissimo Della vita Però Insomma Piccoli passi Avanti Io vorrei Arrivare Al giorno Dell'apertura Del mercato Così da Sapere Un attimino Budget E Soprattutto Giocatori A disposizione Perché Perderemo Un sacco Di gente Credo Che andremo Ancora Su parecchi Prestiti Però Questa Volta Potremo Ambire A Giocatori Un po' Più Interessanti Magari Andando A Prenderli Dalla Dalla Serie A Vabbè Qua poi Ci pensiamo Diciamo Che se Facciamo Le cose Per bene Forse Possiamo Ipotizzare Già Un passaggio In serial Primo turno Alla Alla Prima Stagione Ho i miei Dubbi Però Se uno Riuscisse Già A lottare Per Io Non capisco Su quali Basi C'è questo 86 Sarebbe Un acquisto Superbo Oh Oh Vabbè Adanganga Tadiri pure Con quel livello De marcatura Buon per te Ok Te devo dire Ehm Segre Allora Intanto È il procinto Di firmare Ma cosa Sto comprando Se io Confronto Questo Superbo Se io Confronto Segre Con Per dire No Con il mio Armellino Per curiosità No Allora Armellino È un titolare Fisso Dei 30 anni Però Che prevale Praticamente Su tutte le statistiche No No A nulla A nulla Non Ma che sto A comprare Vabbè Vabbè Che è a zero Ma non Ma non Mi sembra Che Insomma Allora Un tube Sireazione centrale Dell'inter Ecco Già un tube Però lo possiamo Visionare un po' meglio Vorrei statistiche Certe Non Non Così Cose De campate in aria Sulla base De che Anche informazione chiara Sull'uomo Scarsa affluenza Vabbè Capisco che non sia Che non sia proprio L'appuntamento più 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 Bello Della storia Però Dai Flores Che la giochi tu La giochi tu Sta supercoppa Devo capire Se sei uno Che può rimanere O se te devo Caccia via E lo capiremo Solamente Vagando di giocare In un impegno Così gravoso Così importante Così Così delicato Io Vorrei lasciare La serie C Con un bel ricordo In questo momento Potrebbe essere To Barry Del Barcellona Under 19 Lo andiamo A vedere Se finiscono Quei partiti Inutili Allora Barazzetta No Uno che non sa Passare Quello Non mi serve Questo Io non capisco La fissazione Che c'è intorno A questo ragazzo Eppure volubile Do su De che stavo a parlare Allora Dunque 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 Allora Floris Vai E conquista Ciò che devi conquistare Poi Soriano No vabbè Leandrigno Però sta per lasciarci Per cui Facciamogli fare L'ultima uscita Come si deve Eeeh In società di difesa Non ho Vabbè Gioca nonno Scusate Se l'hai meritata Nonno Sita Terzino Fredificante Automatico Ecco Saliamo un po' Leandrigno Ala No Attaccante esterno Ad attacco Bene Eeeh Regà Ma poi Infatti Ma perché Gioca Anzita Che è più forte Sobriamo Alcuni Mostri Finotto Questo è Andiamo Andiamo E stupiamo Si può fare Io Io ci voglio Credere Voglio Voglio Pensare Che Che si sente Niente Oh Allora Bene Signori Energico Andate Cap E vincete La coppa Per i Tifosi Su Creativi 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 Su Toff Toffol Arca Miseria E cala Subito Così Bene Fuori 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 Io il piano Di gioco Ce l'ho Impostato Spero Di si Ci ha detto Bene Ci ha detto Bene Bene Ma perché Batte Leandrigno Perché Vabbè Toffol Tanto Se ne va A fine stagione Per cui Aia Eh vabbè Fuori Fuori gioco Di nuovo No Belle Soltanza Complimenti Eh no Non stiamo Funzionando Allora Toffol Si è fatto Male Per cui Va bene E Eh 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 Derrigo Allora Apriamo il gioco Passaggi diretti Sulle fasce Non centrale Portate poi In aria Per essere Tutto il campo Si Non in possesso Linea alta Ampiezza difesa No Lo lasciamo così Con tassi aggressivi E fuori gioco Forza Domanda di più Ragazzi Vogliamo Vogliamo Lasciare Questo contesto Di serie C In questo modo No Penso proprio di no E invece si A giudicare Dal modo in cui Usciamo dall'aria Mamma mia No Niente Mamma mia Niente Ecco Comunque Complimenti Alla fase difensiva Oggi Siamo veramente Molto attenti Devo dire Complimenti Vivissimi Incoraggia Non capisco Perché Stia accadendo Ciò Ma Sta accadendo Leandrigno Leandrigno Non sarta più Un uomo Manca a pagale Andrigno Smettiscimi Gioca Gioco bene Sta regina La reggiana Poi Tra l'altro Però abbiamo Un grave problema Con Michelotti Che sta dormendo Perché Michelotti Va Va cacciato via Ci devo solamente Rifare i soldi Che ho speso Se riesco Bene Se no Oh Gliela famo Riprendere Sta partita Siamo pessimi Oggi Veramente Niente La palla Di postati Non gira Non gira Siamo anche Un po' Sfortunati Diciamolo Un pizzico Di sfortuna Qui Comincia A vedersi Apri Mamma mia Leandrigno Mio A fine Primo Tempo Ci saluti Mamma mia Ho temuto Il peggio Ho temuto Il peggio Facciamo il 2-1 Prima della fine Che dite Niente Non lo facciamo Non lo facciamo Non lo facciamo Non c'è Versi Oh Ma può Può essere Così Incomplicato Punta Dentro Una Una Capisco Che la Reggiana Ci sia Superiore In questo Momento Però Santo Ce l'ho Benedetto Oh Ennamo E Molto Offensiva Tocca Fa così L'unica Cosa Che farei Anastasio L'idolare Se no Mi Si deprime Già Il morale A terra E Metterei Armellino Al posto Di Rigoni Che si fa Butta fuori E Metterei L'amico Finotto Al posto Di Floris Che non mi sembra Minimamente pronto A occuparsi Di cose Che siano Così Insomma Elevate E Niente Derigo Lo alzo Un po' Per il resto Leandrigno Pessimo Per quanto mi dica 6,70 Addirittura Io metto Soriano Perché si Andiamo Molto Offensiva Più di questo Non ce l'ho fa Dai Su Domandalo Difesa Alterrima No Altissima Proprio Giochiamo Nella metà campo Avversaria Con la difesa Bravo Fossati Per riaprirla Niente Mostruoso Il portiere Della Riggiana È mostruoso È veramente Mostruoso Bravo Bravo Teri Bravo Che ti è piaciuto Quelle buone E quelle cattive Ruba palla E va in porta Ruba palla E va in porta C'è la miseria Lepore No Non l'epore Da solo Sulla fascia Niente È inciampato Le gambe Non sono più Quelle di una volta C'è la miseria Vincono I rimpalli Le cose C'è Ah no La beffa No La beffa No Dai Ma cos'è Ma com'è Possibile Oh E perdi Loro L'impallo C tua Michelotti Di apri Tutto Per Chirico Bravissimo Chirico Non si sa bene Perché Ma Peso Ligore Chi lo batte Chi lo batte Chi lo batte Derrico Aia Ma porca Di quella Miseria Ma porca Di quella Miseria Oh Soriano È uno Dai Stavo già pronto A far tirarla Primo gol E ha scelto La partita giusta Per farlo Devo dire Che brutto Orribile Rigore Dai Dai Sopraffatto Va detto Loda Su Non si deve Lo da Sul 2 a 1 Non si può Lo da No Fa stare Su punizione La riprende No La difesa Deve giocare Più alta Per Diana Se io alzo Il livello Della difesa Sul contropiede Avversario Non possono Stare davanti All'area nostra Dovrebbero stare A centrocampo E non dire Che versate Dopo Ma che Banda De pippe C'è una miseria La difesa È completamente Da Da rifare Bravo Finotto Su Su Finotto Su Finotto Perché Annullato Ma sulla base Di che La squadra C'è stamente L'anima In questa partita Non posso Posso A parte A parte i difensori Orribili Mamma mia No Finisce qua Mi sa Niente Il sogno Supercoppa Si infrange Contro un muro Di sfiga Perché dai Diciamolo Su A parte tutto Non Non Siamo stati sfortunati No Non 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 Prendermela Troppo Ma che è Ma che cosa Sono confuso Sono confuso Ah la ternana in supercoppa Perché abbiamo vinto il campionato Tutto chiaro Almeno quella Andiamo a vincere Che dite Visto l'andazzo Allora Questo ecco per dire no Hernandez Che nella nostra rosa Prenderebbe il posto di Chiricò Chiricò ha 28 anni Hernandez ne ha 25 Vi confrontiamo un attimo Prima di fare qualcosa di cui potremmo pentirci Allora il ruolo è più o meno lo stesso Chiricò ha titolare fisso La visione di gioco Meglio Chiricò Velocità meglio Hernandez Se è più giovane Difesa non ci frega niente Tecnica meglio Hernandez Attacco meglio Hernandez Siamo che il giocatore è forte Tre anni in meno Sinistro alla Robben Basso anche lui Ma il giocatore sembra valido Obiettivamente sembra valido C'ha tutto Quello che Impegno 11 Predezza 14 Senza palla 12 E' uno che potrebbe Dai Andata L'importante è che non ci siano indennizi da pagare Perché Ci abbiamo una lira O meglio Abbiamo due soldi Ma vorrei conservarli Il più possibile Se è possibile Dai Cinque giorni Allora Al momento Della verità Ecco Beh Fa piacere che Michelotti Alla prima convocazione Si rompa Bene Il nazionale Comunque la partita con la Reggiana Ci insegna che Forse sarà più complicata Del previso La serie B Che dobbiamo assolutamente Dobbiamo assolutamente Fare qualcosa Ecco Dunque Rowland Direi di no Vabbè Se non vuole venire Non ci vuole venire Allora Resta Ando stai Meglio con la Non manco sta giocando mai Su Leandrigno Cinque mesi Vabbè Leandrigno Ah l'hanno pure richiamato Ciao Leandrigno Ciao Stai stato piacevolissimo Averti fra noi Ma credo che Insomma sia ora Di dirsi addio Ma poi certo Ciò potevano lasciare Almeno per fare panchina No Orelli 4.700 Direi di no Dunque Marconi Tre settimane Cassaghi Infortunato Bene Che sta succedendo Perché tutti adesso Il tragollo fisico Connell Allora Vediamo un po' Che si riesce A fa Finisco I provini E chi va chiamato Allora Minelli Non mi ispiri Caro Vabbè Basta Con sta storia Del critica Elogia Perché Vabbè no Critica Ariconia Perché Floris Però se tu Trasformassi In Buoni risultati Sul campo Quello che fai In allenamento Forse sarebbe meglio Per te Per me Per tutta la squadra Eeeh Tanto Mi manca pure Michelotti C'ho la supercoppa C'ho la supercoppa Dov'hai Dov'hai Allora Sto Martinez Sapevo detto che costava No 2003 No Non lo approvo Ma giusto per Così Osservarlo da lontano Allora Scaglia Bellucci Beh che coppia Lì dietro Wow Marconi Infortunato Benissimo Eeeh Caro il mio Sampi Automatico Anzi Facciamo che fa Terzino Clodificante Terzino D'attacco Anastasio Terzino D'attacco Delrico Fossata Meno Vabbè Loro si sa Che vanno D'accordo Eeeh Io riprovo Con Floris Floris Mi dai Una gioia Floris Una Che sia una Qua niente Tutti male Stanno Soriano Al posto Delrico No Delrico Famiglio Fa una partita Sul Coraccio Che poi L'anno prossimo Non giocherà più Probabilmente Quindi Piani di gioco Standard Forzati Style Ma non Vabbè Andiamo così E vediamo se almeno questa si riesce a portare via Sarebbe importante ragazzi Aggressivo Ve magno la faccia Ecco Se vuol dire Ve magno la faccia Prima della partita Così importante Creatività Su Sapete Ti hai fatto a morire Per essere entrato in campo Troppo brutto Non lo so Sesso Non so che faccia abbia Ma per farti a morire Dopo un minuto Di partita Devi essere Veramente Impressionante Domanda di più Dai Forza ragazzi Su Bravo Chiricò Che recupera Farmellino Sampirisi Alla Roberto Carlos Sampirisi 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 Bene Gli ebuga le mani Bella così Bella Beh comunque Coordinatissimo Coordinatissimo Il portiere Complimenti Siete creativi Ancora La manna Tu non devi essere creativo Devi parà Che è un'altra cosa Che è successo Ma che vuoi No ragazzi Vi prego Vabbè Benissimo Benissimo Allora Toffol Lascia il posto A Chi va Difende Nessuno Perché non c'è Nessuno Allora L'unico L'unico Potrebbe essere Nonno Sampirisi Va al centrale Entra Nonno Sampi Sampi Credo in te Mamma mia Nonno Voglio un grande Spettacolo Nonno Dai dai Andiamo a raddoppiare Andiamo a raddoppiare Andiamo a raddoppiare Derrico Derrico Niente Allora Primo tempo Energico Avete già la coppa in mano Non fatevela spuggire Diamo un po' più di sicurezza Allora Io a questo punto Farei Pressing Autocampo No Con l'uomo in meno Non si può Contropiede Sì Abbassiamo la linea Con tassi aggressivi Tassi da pressing Meno intenso Difesa un po' più ampia Ritmo di gioco Lo abbassiamo Per di tempo Sì Più disciplina Dribbla di meno Passaggi lunghi Passaggi lunghi A pressi di gioco larga Cercate le fasce E portate il panno in aria Ok Equilibrata Accanna i piani di gioco Se può accannare Eh sì Questo abbiamo fatto Bene Io vorrei un attimino I piani di gioco Ti grazie No eh Non c'è modo Di intervenire Sui piani di gioco No In questo momento Sembrerebbe Di no Fermi un attimo Qui vabbè No Penso di non poter intervenire In questo senso No In questo momento Ah ecco Non usare al copiato di gioco Perfetto Bene Domanda di più La portiamo via La portiamo via Con un po' di intelligenza La portiamo via Aia 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 Bravissimo Anastasio Su ripartiamo Floris Floris Please Please Floris Te parlo in inglese Così forse qualcosa Capisci Madre Dunque Domanda di più Concentrazione massima Porca miseria E vabbè Non cambia niente Non cambia niente Però Cambia niente La nostra strategia Questa è Controviede Rimessa Si gioca di rimessa Si gioca di rimessa Posso cambiare Con l'uomo in meno Bravissimo Riportiamo la parità numerica Bravissimo Bra V Simo E allora si ragiona Adesso E allora adesso Si ragiona A parità numerica Li sfondo Domanda di più Si può fare Adesso Adesso si può fare Bravo Fossa Derrico Derrico Che miseria Chirico Lepore La palla è buonissima Si Chirico Si Chirico Allora Tocca solo De Nè Positiva Che apertura Di nonno Lepore Lo sapevo Che avrebbe dato Spettacolo Bellissima La palla Di Derrico Per Chirico Fanno pace Dopodiché Derrico Aveva usato la massa Per evitare Che Chirico Firmasse il rinnovo O chiedesse il rinnovo Derrico Sempre lui Derrico Derrico La coppia d'oro La coppia d'oro Da una fascia all'altra Da una fascia all'altra Bene così Che vedevo Ha funzionato Il cambio tattico Incredibilmente Incredibilmente Lodali Incredibile Con Flores Prima punta Il Bonza Vince Non c'è Se crede Tattacchi Bene Dai che è finita Ale Ce l'abbiamo fatta Energico Appassionato Godetevi questi momenti Ecco Ok Che fa morale Bene Oh grande Chirico Ok Ragazzi Io direi che per oggi Possiamo Fermarci qua E Preparatevi appunto Tenete d'occhio Instagram Soprattutto Per quanto riguarda Il prossimo episodio Perché potrebbe Benissimo essere Essere in live Fatemi sapere eventualmente In che orari Lo preferireste Così da Essere certo Che ci sia La maggior parte di voi E niente Noi ci vediamo Prestissimo Per proseguire E gettare le basi Per un mercato Spero straordinario In cui Faremo Grandi Grandi cose Passate Ciao Grazie a tutti